Ti racconto una cosa bruttissima che mi è successa ieri. Chiedo di poter fumare in bagno. Mi danno l'accendino. Sono controllato da tre uomini della scorta. Mi siedo sul vater a fumare a torso nudo, con i pantaloni tirati su. Vedo il mio braccio destro, la ferita del giorno prima. Due punti di sutura che mi sono fatto pugnalandomi con una bic. Lo guardo, fumo e la riguardo. Scatta qualcosa nel mio cervello. Trovo dei legnetti e provo a scavare nella ferita. Ma sono troppo leggeri e si rompono. Sono da solo in un cesso schifoso circondato da urla di povera gente disgraziata. Mi avvicino con la bocca alla ferita. A poco a poco, spingendo sempre di più, riesco ad afferrare i punti del giorno prima con la bocca e con i denti. Li tiro, si rompono. Schizza il sangue ovunque. Sulla faccia, sulla bocca, sulle braccia, sugli occhi, sul petto. Sento uno strano sapore. Mi piace. È amaro. È continuo. Sono convinto che dentro la ferita ci siano pezzi di vetro dell'ambulanza rotta. È notte e come un cannibale mordo tutto. Pelle, file, punti, carne, tatuaggi e pezzettini di vetro. Sono incontenibili e senza freno. Di colpo si apre la porta e cinque infermieri vede un uomo. 47 anni. Tale corona. Seduto sul cesso. Tutto sporco di sangue. Che si mangia il suo braccio. C'è chi urla. C'è chi piange. C'è chi mi abbraccia. Io guardo impassibile il vuoto. Sono uno psicopatico in un ospedale psichiatrico. Adriano Celentano.